addio al guerriero del ring e morto luigi minchillo incidente a mondolfo muore 23enne del bangladesh capitale della cultura un'avventura per 50 comuni università primo giorno di lezioni nella sede di muraglia il patrono san terenzio porta rivoluzioni nelle parrocchie buona serata ben ritrovati sul canale 80 ben ritrovati su rossini tv questo è il nostro rossini news il nostro telegiornale che apriamo dandovi notizia di un lutto per lo sport della città di pesaro così come per tutto il mondo del pugilato italiano è infatti morto nella notte luigi minchillo da mezzo secolo figura simbolo del pugilato pesarese nonché campione italiano europeo negli anni 70 e 80 una carriera esaltante che ricordiamo in questo nostro primo servizio se ne andato il guerriero del ring è morto nella notte luigi minchillo figura iconica del pugilato pesarese nonché protagonista assoluto della box italiana e internazionale negli anni 70 e 80 si è spento nella notte in seguito ad un malore fulminante un sospetto aneurisma accusato in casa nella tarda serata di domenica prima del disperato trasporto al san salvatore di pesaro minchillo aveva 68 anni era originario della provincia foggiana ma per oltre mezzo secolo è stato adottato da pesaro una città che ha portato alla ribalta sportiva internazionale e in cui è stato il catalizzatore per tanti giovani che volevano avvicinarsi ai guantoni attraverso la sua palestra minchillo box un grande allenatore dopo essere stato un grandissimo pugile da dilettante partecipò alle olimpiadi di montra del 1976 da professionista in anellò 11 anni nei pesi leggeri super velter una carriera da 60 incontri con 55 vittorie di cui 31 per ko una carriera in cui ha affrontato tutti i mostri sacri della sua epoca come sugar ray leonard roberto duran thomas hers moris hope e mike mccallum una carriera che ebbe una prima svolta proprio a pesaro quando nel 79 diventò campione italiano nella categoria super velter battendo clemente jesse per ko due anni dopo divenne campione europeo sconfiggendo l'algerino luis saccarie ai punti sui 12 round con verdetto unanime nell'84 combatterà due volte per il titolo mondiale wbc a detroit dove venne battuto dal campione statunitense thomas herms ea milano dove cedette per ko alla tredicesima ripresa col giamaicano mccallum la notizia della morte di minchillo scatenato oggi una pioggia di messaggi di commozione cordoglio tantissimi quelli dei pesaresi compreso il sindaco ricci al pari di quelli della sua terra natia di san paolo di civitate fino al mondo della box italiana cordoglio che è stato espresso dal presidente federale d'ambrosi dal presidente regionale romanella e dal delegato pesarese pietroselli minchillo lascia la moglie cristina e tre figli stefania paolo e sabina mercoledì alle 15 ci sarà il funerale in rito civile all'interno del parco miralfiore un 23enne originario del bangladesh è morto oggi dopo che nella notte fra venerdì e sabato era stato investito a mondolfo nella strada provinciale valcesano da una ford focus guidata da una 42enne cubana la donna aveva travolto il ragazzo in questione e un suo connazionale di 29 anni ma si era data alla fuga senza prestare soccorso i due asiatici stavano rincasando verso marotta camminando sul ciglio della strada privo di marciapiedi il marito della donna però allertato i carabinieri che dopo gli approfondimenti di indagine hanno disposto l'arresto oggi nel tribunale di pesaro l'udienza di convalida dell'arresto è stata interrotta per un malore accusato dalla donna l'altro ragazzo investito resta ricoverato all'ospedale torrete di ancona con fratture multiple ma risulta fuori pericolo di vita ed ora lasciamo la cronaca e ci occupiamo di pesaro capitale della cultura 2024 che prende forma nel suo coinvolgimento all'interno del territorio provinciale 50 comuni saranno infatti capitali una settimana ciascuno si partirà quindi a gennaio con valle foglia e si chiuderà a dicembre con urbino dal panorama della torre delle girone di peglio si spalanca una finestra su quello che sarà pesaro capitale italiana della cultura 2024 e in particolare quello che sarà il progetto 50 per 50 capitali al quadrato vale a dire il calendario di eventi che vedrà al fianco di pesaro ogni comune della provincia in versione capitale per una settimana 12 mesi itineranti che partiranno il 22 gennaio da valle foglia e si concluderanno a dicembre con urbino e monte grimano terme un patto fra i sindaci dei comuni della provincia che sabato si sono ritrovati all'appennino festival di peglio luogo non casuale in quanto terra del compianto daniele tagliolini grande unificatore della provincia il tema che essendo 52 settimane dell'anno ogni comune della provincia sarà capitale assieme a pesaro per una settimana sviluppando un proprio programma ragionato ovviamente con con pesaro con i nostri progettisti ma in base alle sensibilità dei vari territori costruiti durante un anno di lavoro con tanti incontri fatti dalle unioni montane riunioni comuni insomma per far emergere un connubio tra istanza di amministratori ma anche istanza degli artisti e dei creativi per fare in modo che questa capitale sia veramente un'opportunità di crescita di riconnessione di rapporti di territori e che nelle 50 settimane ci sia un racconto forte non solo diciamo di un anno straordinario ma di un territorio straordinario perché crediamo che in questo sia un po il segreto di un progetto che vuole essere di crescita non solo di manifestazione di 12 mesi. Siamo convinti che proprio il territorio possa essere il punto di partenza per poter ripensare le politiche pubbliche l'idea di cultura non soltanto come intrattenimento ma la cultura in realtà come vero e proprio driver di sviluppo per le comunità locali per questa ragione partiamo proprio da qui partiamo da un piccolo comune un piccolo comune delle aree interne che per noi non sono interne ma sono interiori ovvero sono quella dimensione interiore spirituale che può dare tantissima forza allo sviluppo del progetto di capitale e quindi rendere forte quella che per noi vorrà essere l'eredità che la capitale italiana della cultura mette a disposizione del paese proprio per poter ripensare la cultura non soltanto in questo territorio ma un po in tutto il paese. Oggi abbiamo dato l'elenco partiremo con Vallefoglia e finiremo con Montegrimano ed è molto bello perché la nostra volontà è quella attraverso il dossier La Natura della Cultura di raccontare la bellezza dell'intera provincia di Pesururbino ovviamente partendo da Pesaro ma non abbiamo mai voluto vivere in maniera egoistica questo riconoscimento perché può davvero segnare il futuro del nostro territorio dobbiamo mettercela tutta c'è grande entusiasmo ognuno sta cercando di fare il meglio in quella settimana valorizzeremo delle peculiarità fantastiche e anche gli eventi che si svolgeranno saranno in tutto il territorio quindi davvero partiamo con il piede giusto oggi davvero arriva una spinta notevole in un comune che ho nel cuore non solo perché è molto bello ma perché il comune di Daniele Tagliolini che come me credeva molto nell'unità della provincia di Pesururbino nella sua capacità di stare insieme e questa volta davvero c'è un bel gioco di squadra e credo che Daniele dall'alto oggi sia molto contento di vederci lavorare insieme. Ovviamente per Peglio è stata una vetrina importantissima e siamo molto contenti e ringraziamo anche il Festival di Appennino che nella gestione e nella collaborazione rispetto a questo evento ci ha anche allestito tutta la location e gestito la cosa in maniera impeccabile. C'è stata una grande partecipazione e quindi il successo dell'iniziativa passa attraverso la partecipazione di tutti i comuni non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste pervenute abbiamo fatto del nostro meglio ampliando anche il budget a disposizione da 200.000 euro a 250.000 euro e pensiamo di poter essere ancora vicini agli organizzatori quindi a tutto lo staff che organizza per vedere cosa potremo e se potremo fare ancora qualcosa per questo evento. Le cose vanno avanti, il 10 d'ottobre avremo gli stati generali del turismo, lì verrà svelato un altro qualche altra anteprima del programma e poi avremo un grande evento tra la fine di novembre e i primi di dicendo a Roma che sarà non solo una conferenza stampa ma un evento di presentazione nazionale quindi come dire rispetto alle altre città in verità siamo partiti molto prima e quindi sarà una bella cavalchiata, un bel crescendo rossignano verso un appuntamento storico per tutti noi. Sicuramente abbiamo detto che questo anno inizierà da quelli che sono gli aspetti di calendario più importanti, pensiamo alla Befana di Urbani che è già un momento nazionale o il carnevale di Fano, il compleanno di Rossini il 29 febbraio, termineremo questo sì lo possiamo rendere chiaro con Urbino perché è un po' la volontà di proiettare tutto questo lavoro anche verso la capitale 2033 europea, sfida che abbiamo già annunciato con tanti sindaci a Matera nel 2019, sfida che fa parte del lavoro anche di questi mesi. Sono iniziate questa mattina le prime lezioni dell'anno accademico 2023-2024 all'Università di Pesaro, un'università che come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi si sposta nel quartiere di Muraglia. Lunedì 25 settembre parte l'anno accademico dell'Università di Pesaro, sede distaccata per quello che riguarda i corsi dell'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Urbino. Carlo Bo, sede universitaria che quest'anno si sposta, Pesaro Studi in Viale Trieste non è più una sede universitaria, è diventata da quest'anno un polo interamente scolastico nel gioco a incastri che ha portato il comune di Pesaro a trovare soluzioni alla serie di demolizioni e ricostruzioni che sono in corso in città, soprattutto nel quartiere di Soria. Scuole che da Soria si sono spostate in Viale Trieste, università che si sposta a Muraglia. Si sposta qui nella sede della circoscrizione del quartiere 7 di Muraglia Monte Granaro. C'è stato un riadattamento di spazi per questa struttura che ora ospiterà i corsi di Ingegneria per la Sostenibilità Industriale, Green Industrial Engineering e Sistemi Industriali e dell'Informazione un primo giorno che è stato accompagnato anche dalla visita del sindaco Matteo Ricci e dall'assessore Francesca Frenquellucci e Camilla Murgia per vedere i nuovi spazi e dare il benvenuto ai ragazzi. Pesaro Studi, compresa la struttura di fronte della Curi, è diventato il polo della scuola di Soria, ciò quello che era Soria si è sostanzialmente trasferito di là, la scuola media, la scuola elementare e l'asilo perché stiamo facendo una scuola e un asilo nuovo e di conseguenza dovevamo trovare una soluzione alternativa per l'università. Ringrazio le due università che hanno collaborato, ovviamente qualche piccolo disagio ci può essere stato, però è stato individuato questo posto a Muraglia, molto funzionale, abbiamo visto le aule sono perfette per l'università, per i numeri che hanno, è un luogo di facile accesso, non nel centro della città ma neanche lontano dal centro della città, servito dai mezzi pubblici, quindi siamo molto contenti di questa soluzione, mi pare che anche i ragazzi, gli insegnanti abbiano apprestato le strutture che sono state ristrutturate, rinnovate in quest'estate, quindi complimenti davvero a tutti, avanti così, poteva venire fuori qualche disagio, invece tutto sommato tutti gli anni scolastici sono partiti bene, in scuole adeguate, in questo caso anche l'università della quale siamo orgogliosi perché siamo riusciti a riportare dei corsi decentrati qua e stanno investendo, in particolar modo la Politecnica delle Marche, questo è molto utile per i ragazzi e per le nostre imprese. Ed ora cambiamo argomento perché in questo mese di settembre cinque forze politiche pesaresi si sono unite per raccogliere firme in favore della proposta di legge per introdurre in Italia il salario minimo a 9 euro all'ora, una petizione che ha avuto importanti riscontri fra i cittadini pesaresi, vediamo. Al culmine di un settembre caratterizzato da una dozzina di banchetti di raccolta firme specifiche per ogni partito pesaresi d'opposizione alla maggioranza di governo nazionale, sabato scorso Movimento 5 Stelle, PD, Più Europa, Europa Verde, Azione e Sinistra Italiana si sono ritrovate nel centro storico di Pesaro per convogliare in un unico spazio collettivo la petizione a sostegno della proposta di legge per introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora. Una battaglia senza distinzione di colore politico per sollecitare il governo verso una proposta di legge che possa dare quella dignità di condizione lavorativa che esiste già in buona parte d'Europa. È un riscontro molto positivo, i pesaresi hanno risposto positivamente a tutti gli appuntamenti che abbiamo fatto in città, online siamo già arrivati a più di 300.000 firme, quindi obiettivo assolutamente raggiunto, puntiamo ad arrivare ancora più in alto, ancora abbiamo tempo, prima della trattazione appunto a 9 ottobre con il tavolo di governo. Credo che sia un segnale giusto, importante, che dà ampio sostegno a questa proposta di legge che credo che sta crescendo in termini di consapevolezza e in termini di un obiettivo che in qualche modo tutta la società sta ascoltando con attenzione perché quella di un salario onorevole, come dice la Costituzione, che ti permetta di vivere in condizioni di far famiglia sia un risultato che è alla portata, speriamo che non venga così confinato in una dialettica di parte ma che sia un risultato che tutta la società politica su questa spinta della raccolta firme e della mobilitazione nazionale possa portare a un risultato importante per tutti. Credo che il governo debba prendere in considerazione questa proposta di legge e finirla di temporeggiare e di parlare d'altro perché comunque l'infrazione sta continuando a salire e il salario minimo e l'adeguamento dei salari al costo della vita è una cosa sempre più necessaria e urgente. E ieri come ogni 24 settembre Pesaro ha celebrato il suo patrono San Terenzio primo vescovo della città con la processione dell'urna del santo per le vie del centro sfociata nella Santa Messa in Duomo celebrata da Monsignor Sandro Salvucci e che Rossini TV vi ha mostrato in diretta. L'arcivescovo ha anche approfittato della festa del patrono per ufficializzare il nuovo vicario generale dell'arcidiocesi come preannunciato sarà Don Marco Di Giorgio che ieri ha ricevuto il passaggio di consegne da Don Stefano Brizzi. Il vescovo Sandro Salvucci ha anche annunciato la riorganizzazione dell'arcidiocesi in comunità pastorali ovvero di unioni di più parrocchie sotto un'unica guida unitaria. Le comunità pastorali saranno al massimo 13 ognuna delle quali sarà riferimento religioso per 10.000 abitanti del territorio. E la festa di San Terenzio è stata onorata anche nel mare con la tradizionale regata del patrono organizzata dalla Lega Navale di Pesaro e giunta sabato alla sua 33esima edizione. Un'edizione molto partecipata con 29 imbarcazioni al via fra cui 21 cabinati e 8 derive. Nel percorso che prevedeva due giri attorno alla boa posta a Fosso Segliore a tagliare il traguardo per primo è stato in Leon X2 dello skipper Gianni Leonardi del club nautico di Pesaro. Nella sfida a vele bianche ha invece vinto il Cuba Libre di Riccardo Rossini della Lega Navale mentre nelle derive il successo è andato a Francesco Marchetti del circolo velico Ardizio. In una giornata simbolo del cattolicesimo pesarese il sindaco Ricci, il vice sindaco Daniele Vimini e il presidente del consiglio comunale pesarese Marco Perugini hanno anche dato il benvenuto al primo tempio buddista in città di tradizione Theravada. Si tratta della più antica scuola buddista tra quelle tuttora esistenti ed è di particolare riferimento per la numerosa comunità dello Sri Lanka che si trova a Pesaro. Si tratta di un luogo di meditazione e fraternità che ha trovato casa nelle colline di San Rocco e che in questi giorni ha ricevuto anche l'ospitalità della parrocchia di Santa Maria di Loreto. A Palazzo Ducale di Urbino, mercoledì 27 settembre alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di conferimento del premio Urbino Award che ogni anno il Comune assegna a grandi firme del giornalismo internazionale. La vincitrice dell'edizione 2023 è Ellen Nakashima del Washington Post che a Urbino parlerà della propria esperienza di reporter legata a temi di sicurezza nazionale, intelligence e nuove tecnologie applicate alla comunicazione. Ed ora andiamo a vedere gli spettacoli perché da sabato 30 settembre Amat metterà in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione di prosa e per la stagione di danza che coincideranno con la riapertura del Teatro Rossini attraverso un doppio cartellone di eventi proiettato verso Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Un programma di 17 spettacoli, di cui due prime nazionali, per un totale di 47 appuntamenti. La vendita degli abbonamenti si svolgerà ogni giorno presso la biglietteria del Teatro Rossini fino al 15 ottobre. La stagione di prosa inizierà il 12 ottobre a Rossini con Chiara Francini a seguire altri nomi di spicco quali Antonio Latella, Sonia Bergamasco, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Massimo Popolizio, Virginia Raffaele e Drusilla Foer. E dagli eventi culturali di Pesaro passiamo a quelli di Gradara che ha aperto il suo autunno ritrovando una rassegna pensate che mancava da 20 anni. Si tratta del Gradara Ludens che Rossini TV approfondirà in un ricco speciale che trasmetteremo proprio domani sera alle 21.20. Intanto vi diamo alcune anticipazioni in questo prossimo servizio. Il Gradara Ludens come sappiamo non era attivo come evento da una ventina d'anni ma in questi vent'anni Gradara Innova ha mantenuto sempre accesa la fiammella appunto della didattica ludica all'interno di Gradara perché il core business di Gradara Innova è incentrato appunto sulle gite scolastiche con tutte le scuole d'Italia e progetti ludico-didattici in cui i visitatori che affollano le vie di Gradara in tutti i periodi tipici delle gite scolastiche quindi primavera, autunno, possono vivere un'esperienza didattica all'interno del castello di Gradara ma giocando, quindi imparando, divertendosi che è un po' diciamo il fulcro anche del Gradara Ludens appunto. Vent'anni fa davamo molto spazio al gioco di ruolo, dal vivo in particolare e si ospitavano delle cose che sembravano più da carbonari, più da nerd e invece ecco in questi vent'anni credo che la cosa più bella è vedere che quei nerd sono cresciuti e anche quelle cose che facevamo ormai sono diventate importanti per intere generazioni per cui Dungeons & Dragons o Magic non sono più soltanto quella cosa che bisogna far di nascosto ma sono diventate una parte importante di quello che è stato un percorso educativo, arricchente, ricco per molte persone di più generazioni. Non siamo soltanto cresciuti e invecchiati noi che giocavamo vent'anni fa è cresciuto il mondo del gioco perché offre cose ancora più stimolanti ed è cresciuto davvero, per esempio il mondo del gioco italiano in questi vent'anni ha fatto dei passi avanti formidabili abbiamo ormai circa un centinaio di autori pubblicati di giochi da tavolo con una ottima ricezione anche all'estero è un segnale di un intero settore che sta crescendo con non soltanto il gioco da tavolo ma tutte le forme del gioco dal modellismo al gioco d'animazione, al circo, alla giocoleria tutte cose che cerchiamo di raccontare e di presentare anche in questo festival Il nostro borgo si è di nuovo dopo vent'anni di letargo, ricolorato e di tanti momenti, di tanti angoli di gioco nei quali bambini, adulti, genitori si sono proprio scontrati, confrontati, sfidati e c'è appunto a volte e ti accorgi che anche proprio il bambino stesso ha vinto magari sul genitore quindi è proprio bello, ma è anche bello questo legame che c'è stato giochi di tutti i tipi, adulti che tra di loro poi si incontrano e davanti al gioco veramente si sentono, riescono a stare a proprio agio e non si preoccupano neanche del fatto che c'è quella sana competizione Qui nel festival abbiamo qualche anteprima di giochi ma soprattutto abbiamo quest'altra cosa fantastica che è l'IDAG che è l'incontro degli ideatori di giochi per cui vediamo anche, intravediamo i giochi che sono adesso in progettazione in questa fase delicata e si intravede già qualcosa di diverso E concludiamo quest'edizione del nostro telegiornale con lo sport La Pesaro Rugby è pronta ad un nuovo campionato di Serie A che sabato ha presentato al cospetto di tifosi molto speciali come gli ospiti della Residenza Peranziani di Santa Colomba Partirà l'8 ottobre al Technovool Rugby Park di Muraglia contro il Petrarca Padova il campionato di Serie A 2023-2024 della Fiorini Pesaro Rugby A due settimane dal via del torneo i Kiwi giallorossi hanno presentato squadre staff tecnico al cospetto di tifosi molto speciali ovvero gli amici di Santa Colomba il cui consorzio sostiene da anni la palla ovale pesarese e che al contempo vede gli stessi regbisti protagonisti di attività ricreative alla Residenza Peranziani E' in questo contesto particolare che riparte una Pesaro Rugby che mescola con ferme e rinforzi al cospetto di un girone di Serie A completamente differente dai precedenti La Serie A in Italia è organizzata in tre gironi territoriali e per la prima volta nella nostra storia quest'anno siamo stati inseriti nel girone nord-est un girone molto particolare e anche molto insidioso avremo 11 trasferte di cui 10 in Veneto perché sono 10 le squadre venete della regione Veneto che compongono questo girone l'undicesima è Via Dana in provincia di Manto quindi lì vicino al Veneto e poi ci siamo noi che siamo la squadra molto più a sud di questa realtà i più esotici e costituiamo una grande novità così come per noi è una grandissima novità andare a incontrare tutta questa realtà siamo molto incuriositi ci sono i giocatori, i tecnici, tutto il nostro mondo chi ci segue perché in quest'area c'è il distretto più importante del rugby italiano quello Veneto e quindi una realtà che il rugby lo conosce sa come affrontare le sfide che il livello presenta di conseguenza abbiamo dovuto anche rafforzare gli organici per affrontare un campionato sicuramente più competitivo degli anni trascorsi e che vorremmo comunque dove vorremmo ben figurare ugualmente sicuramente dovremo cercare di aumentare il ritmo dei minuti giocati a rugby sappiamo che il girone Veneto qualitativamente è un po' più alto rispetto al girone sud che affrontavamo l'anno scorso quindi dovremo cercare di riuscire a reagire più velocemente a quello che ci troviamo di fronte affrontiamo squadre che non abbiamo mai incontrato quindi è un po' tutto nuovo per noi però ci stiamo preparando bene La società quest'anno ha fatto uno sforzo maggiore per dare agli allenatori una squadra più competitiva rispetto all'anno scorso i nuovi acquisti sono acquisti di valore le conferme comunque abbiamo tenuto giocatori che la scorsa stagione si sono comportati molto bene c'è il giusto mix per fare un buon lavoro anche se il campionato che andiamo ad affrontare è un campionato diverso che non conosciamo però i presupposti sono buoni Proprio a Villarosa sabato si è presentato in doppia veste di capitano della Pesaro Rugby per il settimo anno e di coordinatore infermieristico della Residenza per Anziani i cui ospiti hanno incitato la partenza della stagione dei Kiwi in un plauso al connubio fra pallo ovale e sostegno sociale sottolineato anche dagli assessori Pandolfi, della Dora e dal consigliere regionale Biancani Veniamo tutti gli anni, ormai da diversi anni a festeggiare l'epifania con i ragazzi creando un momento molto piacevole per la struttura e per gli ospiti I responsabili della struttura ci hanno chiesto un maggior coinvolgimento e quest'anno abbiamo deciso di partire proprio con la presentazione del campionato a casa loro e siamo molto soddisfatti di questa cosa lo sono anche i nostri sponsor delle iniziative sociali che attiviamo È iniziato questo percorso dove i ragazzi una o due volte all'anno vengono a trovare i nostri cari fanno attività con loro rinomata la Befana con la squadra di Piesaro Rugby e si attivano queste attività la rete è molto forte perché comunque anche noi come consorzio rispettiamo molto l'accoglienza tutti i valori che comunque anche nel rugby vengono poi portati avanti di unione, di fidelizzazione, di fedeltà di rispetto reciproco e quindi questa cosa è molto importante non ultima dopo il Covid il consorzio ha voluto fare un investimento in una figura professionale infermieristica in un coordinatore infermieristico che abbiamo scoperto poi essere Carlo Virlarosa il capitano della squadra di rugby quindi in una situazione molto occasionale è arrivata anche questa ulteriore unione con la squadra Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale carissimi amici vi ricordo che c'è un'altra edizione alle 20 e 30 e poi le repliche che potete vedere sia questa sera ma anche nella giornata di domani questa sera intanto vi ricordiamo che alle 21 e 20 così come stiamo facendo da diversi lunedì vi mostreremo il saggio della scuola Vaganova danza ASD di Fano che interpreterà il balletto classico di repertorio Le Corsair quindi non perdetevi questo bellissimo spettacolo questa sera alle 21 e 20 mentre domani io vi aspetto alla rassegna stampa consueta così come facciamo tutti i giorni da lunedì al sabato quindi in diretta alle 7 e 20 vediamo adesso come sarà il tempo per i prossimi giorni grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti